Ben ritrovati con la trasmissione Eccellenze in Sanità e grazie per le parole di consenso a questo percorso che stiamo facendo. Oggi è ospite della nostra trasmissione il professor Montefiori di Genova. Professore benvenuto, si vuole presentare? Grazie dell'invito, sono professore di economia al DIEC, il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova e da circa tre anni ricopro il ruolo di coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerche APEC. Professore ci vuole parlare del Centro Studi di Economia Sanitaria APEC? Molto volentieri, grazie della domanda. Il Centro Studi APEC nasce nel 2018 in seno al Dipartimento di Economia per promuovere attività di ricerca e di formazione sulle tematiche proprio connesse all'economia sanitaria. Allora, anche se il centro è relativamente giovane, il progetto APEC nasce qualche anno prima, nel 2015, con la realizzazione del corso di perfezionamento in economia del farmaco, della salute e delle tecnologie sanitarie. L'obiettivo iniziale del corso era quello di sviluppare competenze al servizio delle scelte e delle decisioni del decisore pubblico in ambito economico-sanitario, chiaramente. Questo parte dall'assunto, dalla considerazione che il mercato della salute con le sue dinamiche, con le interazioni tra i soggetti economici e istituzionali è molto articolato e molto complesso. L'idea era mettere a disposizione gli strumenti tipici dell'approccio dell'analisi economica a tutti quei soggetti chiamati a prendere decisioni in questo tipo di contesto, in questo ambito. A settembre 2021 partirà la settima edizione del corso e facendo un po' una valutazione di quello che è stato sin qui, possiamo considerare che abbiamo avuto oltre 300 discenti nelle sei edizioni precedenti e quello che era un po' l'obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere, che mi sembrerebbe abbiamo ottenuto, è stato quello di coinvolgere tante professionalità coinvolte nel mondo della salute, creando, portando una sorta di contaminazione tra competenze, competenze economiche, mediche, giuridiche, ingegneristiche, farmacologiche. E poi l'altro aspetto che è interessante è il bilanciamento del corso, perché se da un punto di vista della composizione abbiamo studenti delle scuole di specializzazione in ambito sanitario, quindi medicina, farmacia, farmacologia, eccetera, abbiamo anche studenti di dottorato in materie di nuovo sanitarie o anche economica, ma anche personale in servizio nell'ambito del settore sanitario della pubblica amministrazione, ma anche di aziende private. Per esempio abbiamo avuto in questi anni tra i nostri discenti direttori di strutture complesse, di strutture semplici, primari, medici, farmacisti, presidenti di ordini professionali e così via. A livello geografico abbiamo cercato di andare oltre i confini regionali, fin dalle prime edizioni c'è stato un allargamento che andava un po' al di là della regione Liguria e poi questo andamento ha continuato a svilupparsi progressivamente anche grazie alla realizzazione della modalità di didattica mista in presenza, in webinar, quindi abbinando i due elementi che ha permesso chiaramente un maggior coinvolgimento, un crescente interesse da fuori regione. Altro aspetto caratterizzante è la faculty, cioè il corpo docente che è espressione delle più alte competenze in materia di economia sanitaria a livello nazionale, docenti che affrontano i temi più importanti, più attuali dal punto di vista ovviamente dell'economico, di questo ambito sconfinato che è l'economia sanitaria, la sanità scusa. Alla parte di formazione si affianca chiaramente la ricerca, questo è il centro studi e ricerca, ricerche APEC è per fare ricerche, il Dipartimento di Economia ha una lunga tradizione di attività di ricerca nell'ambito dell'economia sanitaria, infatti ha sviluppato negli anni numerosi progetti di collaborazione con ospedali, entiti territoriali, varie istituzioni. Allora questo lavoro fatto con il territorio, con le varie istituzioni, è stato in qualche modo trasformato in un qualcosa di concreto in seno al Dipartimento che è il centro APEC. Oggi il centro APEC consta di 10 persone con un'età media relativamente giovane, 38 anni e in grande prevalenza donne, nell'80%. Fanno parte di APEC però anche docenti di altri atenei, in particolare Brescia e Pavia. Allora qual è l'obiettivo di questo centro studi? È quello di svilupparsi anche a livello internazionale e per questo abbiamo iniziato a organizzare con cadenza annuale a partire dal 2019 un workshop internazionale sulle tematiche più importanti dell'economia sanitaria. Nel 2019, quando è stata inaugurata la stagione con il primo workshop, il tema era quello della sostenibilità e dell'equità. A settembre 2021, a breve, parleremo invece di invecchiamento demografico. Abbinato ad ogni workshop è sempre prevista una special issue su riviste internazionali molto prestigiosi, devo dire che siamo stati fortunati ad avere questo interesse da parte di riviste così importanti. Purtroppo nel 2020 abbiamo dovuto interrompere la serie dei workshop causa Covid e adesso la riprendiamo, poi speriamo che l'emergenza Covid ci permetta di svolgerlo in presenza, altrimenti verrà fatto solo da remoto, cioè in modalità webinar. Attraverso l'attività del centro ci piacerebbe, ci interessa portare avanti da un lato sì la ricerca accademica di respiro e di rilevanza internazionale, dall'altro però anche analisi e progetti a supporto del decisore pubblico in una logica di real world data, real world evidence, cioè analizzando i dati amministrativi dei flussi regionali per poter dare un aiuto, un supporto informativo, strumenti informativi da mettere poi a disposizione di chi poi debba prendere decisioni. Professore, sappiamo che la Liguria ha una popolazione la più anziana d'Italia ed è tra le più anziane d'Europa. Ecco, e quali sono le implicazioni dell'invecchiamento demografico sui bisogni sanitari e sulla spesa sanitaria? Chiaramente all'invecchiamento della popolazione è correlata l'insorgenza di patologie croniche. Allora se andiamo a curiosare un po' i dati Istat, ci dicono che la percentuale di persone affette da almeno una patologia cronica è il 41% di tutta la popolazione generale, ma questo 41% assorbe, si stima, da 70 all'80% di tutte le risorse sanitarie complessive. Se poi noi parliamo della Liguria, quindi popolazione anziana, quindi ci focalizziamo sulla popolazione over 75, io definisco anziana perché c'è una classificazione che mi piace molto che prevede il giovane anziano tra i 65 e 74 anni, tra i 75 anni e gli 84 si diventa anziani, dagli 85 in poi grandi vecchi per poi diventare centenari oltre i 100 anni. Quindi torniamo alla popolazione anziana over 75. Bene, qui la percentuale di pazienti cronici sale addirittura all'87% e si pensi che il 40% della popolazione over 75 convive con tre patologie croniche o più, almeno tre patologie croniche. È chiaro come questo abbia delle ripercussioni, delle ricadute anche sulla spesa sanitaria. Pensiamo ai ricoveri ospedalieri, alle prestazioni specialistiche, agli accessi in pronto soccorso, ma anche al consumo di farmaci. Ritornando ai dati Istat emerge che il 90% delle persone che hanno più di 75 anni, è stata un'intervista da parte degli Istat, hanno dichiarato di aver consumato farmaci nei due giorni antecedenti di intervista. Allora ecco quindi evidente l'importanza del fattore età rispetto ai costi e poi in ultima istanza la sostenibilità economica del sistema sanitario. Ricordiamoci che la spesa sanitaria rappresenta la principale voce di spesa dei bilanci regionali. Il suo controllo è quindi una priorità per il decisore pubblico che però deve anche assicurarsi che questa spesa sia anche in linea con le preferenze dei cittadini. Quindi qua arriva il concetto di efficienza, efficienza vogliere ottenere un certo risultato spendendo il meno possibile, ma questa efficienza, questa ricerca di sostenibilità non deve mai andare a riscapito di quella che è la qualità e l'universalità dei servizi, cioè permettere a tutti l'accesso alle cure di cui hanno bisogno. Allora qui diventa chiara l'importanza e la rilevanza di un laboratorio economico naturale quale la regione Liguria, giusto per far capire quanto è peculiare la regione Liguria, guardando agli ultimissimi dati disponibili si emerge che la popolazione over 65 regione Liguria è il 28,8% rispetto a un valore medio nazionale del 23,5%. Quindi questo pezzo di popolazione anziana si stima che assorba, cioè questo gruppo di popolazione si può imputare il 70% di tutti gli acquisti di farmaci, questo per dare un'idea di come l'impatto dell'età, della composizione demografica sia importante dal punto di vista dei costi. Quindi questo fa della regione Liguria un case study davvero molto interessante e però mette anche in evidenza un altro aspetto, cioè proprio per quello che ci siamo detti sin qui, popolazione anziana, popolazione fragile, ecco che la componente sanitaria non può essere separata, scorporata dalla componente socio-sanitaria, tutti quegli aspetti di assistenza sociale che ormai devono integrare la sanità e non si può più lavorare senza considerare i due elementi. Allora ecco che la Liguria può giocare d'anticipo perché è in grado sostanzialmente di anticipare, date le dinamiche demografiche in molti dei paesi d'Europa, è in grado di anticipare quello che negli altri paesi d'Europa si verificherà tra più di vent'anni. Noi lo possiamo osservare oggi guardando ai dati della regione Liguria. Professore, la Liguria è un laboratorio naturale e immagino quindi che a livello regionale si stiano sviluppando diversi iniziativi, filoni di ricerca per studiare questo fenomeno. Ci le vuole illustrare? A livello pratico, operativo, organizzativo, Regione Liguria, Alisa, l'azienda sanitaria Ligure, gli ospedali, il territorio, stanno studiando e implementando nuove policy, cioè nuove soluzioni che vanno proprio in questa direzione. Ci sono per esempio molte iniziative che vanno nella direzione della telemedicina, dell'assistenza a domicilio, della digitalizzazione, di una sempre maggiore integrazione tra la medicina del territorio e quella ospedaliera, oltre che ai canali di distribuzione dei farmaci e alla long term care, ovvero l'assistenza a lungo termine. Qua mi viene in mente anche il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando si fa riferimento alla digitalizzazione e al ruolo del territorio, dove nel PNRR si parla si parla chiaro della necessità di sviluppare la sanità di prossimità, la creazione di strutture come per esempio le case della comunità o gli ospedali della comunità, che vanno proprio in questa direzione. Poi ovviamente anche in ambito universitario si sta facendo molto, io cito solo un esempio perché è il caso più recente, cioè la Costituzione del CILIA, Centro Interdipartimentale per la Longevità e l'Invecchiamento Attivo. Fanno parte di questo centro 11 dipartimenti dell'Università di Genova e l'obiettivo è di affrontare proprio il tema dell'invecchiamento a 360 gradi con un approccio multidisciplinare con competenze in ambito medico sanitario, ingegneristico, economico, giuridico e quant'altro. E poi ovviamente c'è anche APEC, infatti molte delle nostre ricerche si concentrano proprio sullo studio di patologie croniche, con particolare riferimento e attenzione alla popolazione anziana e alla popolazione fragile, e poi ovviamente anche all'assistenza di lungo termine. Molto interessante quello che ci dice professore, tra i diversi filoni di ricerca che ha sviluppato a livello personale o presso il centro APEC, quali risultati ritiene particolarmente rilevanti in termini di azione di policy indirizzata all'aging society? In riferimento ad aderenza, colesterolo alto, silent killer, frequent users e così via? Parto da un esempio riferito proprio alle patologie croniche, tra cui l'ipercolesterolemia che lei ha citato. Bene, se guardiamo all'ipercolesterolemia si evidenzia immediatamente come l'età sia il fattore di rischio principale. I pazienti affetti da ipercolesterolemia si stima siano nel 77% dei casi over 65. Il 50% dei casi di pazienti con ipercolesterolemia ha più di 75 anni. Ricordiamoci poi che con l'avanzare dell'età aumenta anche il numero di patologie croniche, il numero di farmaci da prendere ogni giorno. Allora da qui lo step successivo è che cosa? Il rischio di non aderenza alla terapia. Il rapporto AIFA sull'uso dei farmaci, in particolare penso al dato riferito all'aderenza rispetto alle statine, evidenzia come proprio nel caso di questi farmaci si evidenzia una delle percentuali più basse di aderenza. Quindi la non aderenza viene estimata di poco inferiore al 42%. È uno dei dati più alti tra quelli rilevati in questo documento. Chiaramente il rischio di non aderenza è anche determinato dal fatto che vi sono patologie, ipercolesterolemia ma anche ipertensione che potremmo definire silenziose. Cosa significa patologia silenziosa? Che non manifesta sintomi gravi che facciano in qualche modo preoccupare il paziente, quindi una sorta di maggiore tranquillità da parte del paziente. Però questo non significa che poi non possano esserci ripercussioni gravi. Il farmaco, se non assunto, è chiaro, non può funzionare e la conseguenza, dal punto di vista economico, perché io poi finisco sempre lì, è quello di un maggiore assorbimento di risorse del servizio sanitario regionale o nazionale. Si pensi per esempio che le persone affette da ipercolesterolemia hanno una probabilità di essere ricoverate o di accedere al pronto soccorso per infarto cardiaco molto maggiore rispetto agli altri pazienti. Questa probabilità è chiaramente influenzata da tante componenti, tra cui anche l'aderenza. Una maggiore aderenza riduce il rischio di complicazioni e di peggioramento. Ma dove sta anche un altro problema dell'aderenza? Nella difficoltà di accesso al farmaco. Noi le definiamo barriere geografiche. La barriera economica è una barriera legata al potermi permettere l'acquisto del farmaco. La barriera geografica è una difficoltà di accesso al farmaco. La barriera geografica ovviamente riguarda solo una fascia della popolazione, quella molto anziana e tipicamente fragile. Allora, una delle cose che ci dobbiamo porre come domanda è, ci sono dei problemi di questo tipo che possono ridurre la possibilità per il paziente di essere aderente alla terapia? E perché è così importante l'aderenza alla terapia? Perché da un lato chiaramente se io non prendo il farmaco ho un risparmio, perché non devo spendere per l'acquisto del farmaco. Dall'altro però c'è un aggravamento della condizione di salute del paziente, questo aggravamento si ripercuote sostanzialmente in maggiori costi per il servizio sanitario. Recovery, accessi al pronto soccorso, specialistica, oltre chiaramente a un problema importante di qualità della vita del paziente e anche di outcome clinici, compreso purtroppo la situazione di rischio di decesso. Non va dimenticato che le malattie croniche rappresentano la principale causa di morte in quasi tutti i paesi del mondo. Quindi è chiara l'importanza di questa considerazione sull'aderenza. Io poi penso alla Liguria che è una regione con un'orografia particolare, abbiamo il mare, una striscetta di terra e poi ci sono i monti a ridosso, quindi una serie di situazioni che devono essere attentamente considerate e valutate. Un altro aspetto secondo me molto interessante che abbiamo studiato e che è anche evidenziato in età dalle indagini ISTAT è la relazione tra livello di istruzione, malattia e decesso. Chiaramente il livello di istruzione è una variabile che è strettamente correlata al reddito, ma istruzione e quindi anche reddito sono in grado di influire sulla probabilità di ammalarsi, almeno con riferimento a determinate patologie tipicamente cronicità. Bene, vediamo qualche dato, qualche informazione per essere un pochino più puntuali su questo. Prendiamo la popolazione generale italiana con un livello di scuola media inferiore, scusate, con un grado di istruzione dato a scuola media inferiore, bene, questo è all'incirca il 50% di tutta la popolazione. Noi dovremmo aspettarci, guardando per esempio alle persone che hanno una patologia cronica, una distribuzione più o meno simile della probabilità. Invece la percentuale di persone con una patologia cronica che hanno un livello di istruzione della scuola media inferiore sale al 73,5%. Simmetricamente se noi andiamo a guardare invece i più istruiti, quindi livello di scuola universitario, bene, questo rappresenta al 14% della popolazione. Bene, se andiamo a guardare invece quanti hanno un livello di scuola, un livello di istruzione universitario, con una patologia cronica questa percentuale scende al 5%. Ecco quindi che sono un po' alterate le distribuzioni delle probabilità. Sembrerebbe che le patologie croniche non siano eque, nel senso che colpiscono proporzionalmente di più, le facce meno abbienti e meno istruite della popolazione. Quali sono le cause e le ragioni? Chiaramente sono determinanti sociali, stili di vita, accesso ai servizi. Altro aspetto un po' drammatico ma importante ed evidente che viene fuori sempre dall'indagine ISTET sono i dati della mortalità per livello di istruzione. Mostrano, parliamo del periodo pre-pandemico, significative disuguaglianze a sfavore delle persone meno istruite. Ma poi c'è stata l'epidemia, c'è stata l'ondata, la prima ondata e quello che si rileva è che il divadio di mortalità tra meno istruiti e più istruiti si è ulteriormente allargato, addirittura un peggioramento. Allora, questi risultati dal mio punto rivista sono di grande importanza in una logica di politiche socio-sanitarie perché forniscono una chiave di lettura molto particolare anche per esempio sulle scelte di allocazione delle risorse. La salute sostanzialmente la si ottiene investendo anche in ambiti diversi dalla sanità, per esempio nell'istruzione o nella riduzione delle disuguaglianze e l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze, le disparità tra regioni è un obiettivo proprio previsto anche nel PNRR che abbiamo già citato prima. Quindi sono delle sfide importanti che possono permettere di andare nella direzione di dare un aiuto alla sanità pur non investendo direttamente nella sanità. C'è uno studio inglese che a me piace molto citare che ha stimato l'effetto moltiplicatore della spesa sanitaria pubblica e anche dell'investimento in istruzione. Ebbene il messaggio che viene fuori da questo studio è che investire in sanità così come investire in istruzione danno ritorni molto importanti, significativi, positivi e nel breve termine per la ripresa economica. In particolare sulla sanità la stima è di 4,3 come effetto di moltiplicatore, come moltiplicatore nel caso dell'istruzione addirittura 7,5. Quindi la considerazione finale è che in realtà ormai la sanità non deve essere più fondamentale, chiaramente investire in strutture sanitarie ci mancherebbe, però è un aspetto che deve essere affrontato veramente a 360 gradi considerando anche aspetti che sembrerebbero in realtà marginali e al di fuori da questo contesto. Grazie professore per le cose interessantissime che ci ha detto, arrivederci a presto e grazie a voi cari amici telespettatori, cari amiche telespettatrici che ci avete seguito ancora una volta, appuntamento alla prossima puntata che sarà altrettanto interessante. Grazie. Grazie a tutti.